Io ho preso una posizione molto forte, continuerò su questa posizione perché è assurdo che un territorio come il nostro, come la nostra Basilicata, che già deve far fronte a quelli che sono i possibili problemi che possono derivare dalle estrazioni petrolifere, debba continuare ancora a subire come regione, è vero che capita pure per le altre, ma continuare a subire ancora queste difficoltà sul territorio che chiaramente non possono essere accettate. Ho già mandato un messaggio, mi batterò strenuamente e rappresenterò al governo che noi assolutamente non vogliamo che questo avvenga sul nostro territorio come è avvenuto in passato. Lo dobbiamo ai nostri cittadini, alla tutela soprattutto della salute dei nostri cittadini.